La stampa, la carta. Perché non ci sarà più la carta? Perché io ora sono costretto a avere degli appunti perché ho qualche dato e un paio di occhiali perché non ci vedo. Sono sicuro che fra dieci anni i dati ce li avrò negli occhiali quindi perlomeno farò una cosa sola, mi metterò gli occhiali e vedrò passare i dati nei miei occhiali. 21 dicembre 2012. Che cosa accadrà? In realtà non lo sappiamo. Possiamo avere qualche speranza legittimamente, magari cala un po' lo spread, riparte l'economia, i mercati si cominciano a rigirare e forse potremmo avere un abbassamento delle tasse o al limite che le paghino tutti. Vediamo, queste sono speranze ma certo non lo sappiamo. Voi sapete che nel calendario Maya in realtà finisce l'era dell'oro. Un'era dell'oro è già finita sicuramente ed è quella del giornalismo. Il giornalismo sta vivendo dentro la crisi di cui oggi hanno parlato le persone che mi hanno preceduto, sta vivendo una sua propria crisi strutturale all'interno della crisi generale che ha colpito l'economia. L'età dell'oro del giornalismo ha un presupposto, cioè l'invenzione della stampa. Metà del 400, Gutenberg inventa la stampa a caratteri mobili, si comincia a stampare, ci vogliano ancora qualche centinaia d'anni prima che nasca il giornalismo. Il giornalismo nasce negli Stati Uniti nel 1830 perché un editore illuminato decide di abbassare drasticamente il costo del denaro. Si chiama Penny Press, la formula. Questa formula che cosa fa? Crea il primo mass media della storia perché prima i giornali se lo leggevano l'elite, non è che le leggeva il popolo, le leggeva chiunque. Circolavano pochissimi giornali, costavano molto e li leggevano in pochi. Quest'editore a un certo punto ha l'intuizione, mette il giornale a un penny, comincia ad avere una grande circolazione e diventa un prodotto interessante per gli inserzionisti, cioè per coloro che fanno pubblicità. Si crea questa formula, questo triangolo editore pubblico inserzionista che per 200 anni ha dato i ricavi, le risorse per il giornalismo moderno. Le cose sono cominciate ad andare molto male verso la fine del decennio scorso, intorno al 2008. Vi do alcuni dati di oggi che sono impressionanti. Nel primo semestre di quest'anno, negli Stati Uniti, i giornali americani hanno perso come quote di pubblicità circa 800 milioni di dollari. È vero c'è il digitale dall'altra parte, sappiamo tutti che ci stiamo spostando sul digitale. Bene, il digitale ha guadagnato in più rispetto all'anno precedente, in quel semestre, nello stesso semestre, 32 milioni di dollari. Voi capite che i conti non tornano, cioè per ogni 25 dollari che una copia stampata perde, l'online ne guadagna uno. Secondo le previsioni del Center for Digital Future, la maggior parte dei giornali americani avrà 5 anni di vita, quindi non stiamo parlando di futuro, stiamo parlando di presente. 5 anni sono un attimo. Sapete perché è notizia di un paio di settimane fa, una settimana fa, che la crisi ha già colpito tanti giornali importanti, ma certo Newsweek nessuno se lo aspettava. Newsweek ha annunciato, Tina Brown ha annunciato una settimana fa, il direttore ha annunciato che Newsweek stamperà l'ultima copertina alla fine di quest'anno. Il 31 dicembre, quindi Maya qualcosa devono averla indovinata, il 31 dicembre 2012 esce l'ultimo numero di Newsweek. Ovviamente il giornale, il settimanale americano proseguirà in digitale, verrà venduto suo abbonamento solo in digitale, ma per le cifre che abbiamo detto prima, certo non è più la stessa cosa. In Italia non è che stiamo molto molto meglio, nel 2000 si vendevano più di 6 milioni di copie al giorno, nel 2011, quindi circa 10 anni dopo, le copie sono scese a 4,5 milioni al giorno, quindi 4 milioni e mezzo l'anno scorso. Quest'anno, nel primo trimestre, secondo le proiezioni della FIEG, siamo scesi sotto la soglia dei 4 milioni, cioè pensate, rispetto all'anno scorso del primo trimestre siamo già a 3,8 milioni, quindi è evidente che c'è un'accelerazione impressionante di circolazione dei giornali. Allora, ho detto, mi sono messo un po' a pensare a quello che potrebbe succedere e mi sono ispirato, sono andato a guardare cos'è successo quando Gutenberg ha inventato la stampa a caratteri mobili. Che cos'era la stampa a caratteri mobili? È un processo industriale, è l'embrione di un primo processo industriale. Velocità, perché certamente ha velocizzato il processo di diffusione del sapere e della cultura, la possibilità di stampare più copie, soprattutto di far circolare più copie, e tutto questo con un costo molto minore di quello che si sosteneva prima per produrre una singola copia. Tenete presente che una manuense, per copiare una Bibbia, ci metteva circa un anno e non lavorava da solo, se no ce ne metteva di più. Quindi, voi capite che questo processo di industrializzazione era estremamente più economico rispetto agli amanuenzi, che infatti di lì a poco sono morti. L'invenzione di Gutenberg ha creato un processo industriale che ha funzionato alla meraviglia per 500 anni. Poi però nel 2000, scusate, nel 1991 un certo Tim Berners-Lis ha messo a punto un qualcosa che forse è un po' più economico e un po' più veloce della stampa, il web. Il web indubbiamente ha contribuito a velocizzare ulteriormente i processi di diffusione del sapere e soprattutto ha battuto i costi in maniera impressionante. Voi pensate che per fare una televisione o per fare un giornale ci volevano tanti di quei soldi che giusto Berlusconi poteva farsi tre televisioni e un giornale, e più svariati libri e settimanali, ma a una persona comune non era permesso accedere all'informazione. Con il web questa posizione di elite dell'editore si è indebolita. Oggi una persona che ha buone idee e ha voglia può riuscire a diventare, se non altro, un editore di se stesso o di un gruppo di persone. E allora la domanda che mi sono posto è, ma il web è incompatibile con la stampa? Punto interrogativo. Dico che è molto probabile al mio modo di vedere, ma poi vediamo come. Il punto fondamentale è che Gutenberg ha ucciso probabilmente, sicuramente con la sua invenzione, gli amanuensi, ma non ha ucciso il sapere. Con l'invenzione di Gutenberg il sapere ha avuto una diffusione molto maggiore di quella che aveva avuto fino ai suoi tempi. Lo stesso è avvenuto con il web. Il web potrebbe uccidere la stampa, la carta, ma certamente noi abbiamo più informazione oggi, in un anno, che probabilmente in tutto il secolo passato. Quindi la nostra domanda è come viaggerà l'informazione nei prossimi dieci anni, quale saranno il modo di far veicolare l'informazione e come si trasformerà il lavoro del giornalista. Dico subito che è principalmente un problema culturale. È un problema culturale perché prima di tutto era molto chiaro, c'erano i fatti, c'erano i giornalisti e c'erano i lettori. I lettori che cosa facevano? Compravano i giornali su cui i giornalisti raccontavano i fatti. Gli piacevano o non gli piacevano, fatti loro, stavano al loro posto. Non c'era nessuna interazione tra il lettore e il giornalista. Al limite il lettore poteva decidere di non comprare più quel giornale, ma non poteva fare molto di più. Negli ultimi dieci anni, appunto, con il web è cambiata una cosa fondamentale. Sono cambiate le abitudini dei lettori, sono cambiate in maniera radicale, tant'è vero che i lettori oggi sono anche dei produttori di informazione, sicuramente dei selezionatori di informazione e sono anche dei distributori di informazione. Lo siamo tutti noi con Twitter, con Facebook, con i blog e con le mille attività che abbiamo quotidianamente. Twitter, per prendere una delle piattaforme che più si sta mescolando e sta rivoluzionando il giornalismo, che cos'è Twitter? Twitter è quello che fino a ieri sono state le agenzie di stampa, è un notiziario in tempo reale. Non ci sono dubbi su questo, abbiamo visto con la primavera araba, quindi con avvenimenti non prevedibili in agenda, ma lo vediamo anche con le cose in agenda. Le elezioni americane in questi giorni, se voi ogni volta che c'è un dibattito o qualcosa date su Twitter, vedete le milioni di informazioni che circolano da cittadini comuni americani che riportano notizie, danno informazioni, discutono e così via. La morte di Whitney Houston è stata data su Twitter perché semplicemente la figlia dell'assistente domestica di Whitney Houston ha saputo dalla mamma che era morta nella vasca da bagno e lei è stata la prima a dire che era morta su Twitter. Il ministro Ornaghi è stato nominato su Twitter perché quando Monti l'ha chiamato era in aula alla cattolica a Milano e gli studenti hanno risposto, dice, eh sì, eh sì Mario, sì, 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 ah davvero, allora sì. E i ragazzi hanno sentito che hanno fatto, non sapevano di che cosa, ma erano certi che era uno dei prossimi ministri. Quindi è evidente che ormai il giornalismo è qualcosa di non più così definito. È vero che le persone non fanno giornalismo anche perché non campano di quella e devono fare altro, ma possono fare atti di giornalismo che in alcuni casi sono molto migliori di quelli che fanno i giornalisti. Perché certamente io da giornalista avessi avuto in esclusiva la morte di Whitney Houston o del ministro o la nomina del ministro sarei stato certamente felicissimo e sarei stato convinto di aver fatto un buon lavoro. Quindi il fatto è che sono cambiate le abitudini dei lettori e che le abitudini dei lettori hanno cambiato il mercato. Questo è il motivo per cui un certo tipo di supporto dell'informazione è andato in crisi. Non c'è dubbio che se la stampa vuole sopravvivere deve imparare a cogliere le opportunità, le opportunità di questo cambiamento. La domanda, non è così semplice, è come trasportare quegli antichi valori che hanno reso una professione per 200 anni una professione, come traghettarla nel giornalismo del terzo millennio. Allora io, appunto, siccome qua si parla di idee e mi è stato chiesto di portare qualche idea, ho buttato giù una sorta di manifesto in dieci punti. La premessa, che è un punto fermo perché se no possiamo smettere di parlare e non vale niente, la premessa è che il giornalismo di qualità non è gratis. Non è gratis perché costa. L'editore, chiunque, anche se ci mettiamo insieme noi e vogliamo fare, mandare uno in America, uno in Sud a fare un'inchiesta in Africa, ci vogliono i soldi. Quindi il giornalismo di qualità, le inchieste non sono gratuite, costano e quindi non possono essere cedute gratuitamente. A questo punto ci sono tre strade. La prima, offrire i contenuti in maniera gratuita in cambio della pubblicità. Ed è quello che la radio ha sempre fatto e che la televisione, a parte il canone della televisione di Stato, ha sempre fatto. La seconda possibilità è far pagare i contenuti, ma si riesce a far pagare i contenuti in un mondo dove l'informazione è così vasta solo se si hanno contenuti esclusivi e originali, cioè non uguali agli altri, perché se un contenuto è a pagamento e l'altro è gratis e si equivalgono andrò sempre su quello gratuito. Terzo, adottare modelli misti, cioè dare una parte dei contenuti gratuiti perché comoditi, perché ce ne hanno tutti, e far pagare dei contenuti più approfonditi. Quindi il primo punto, non può essere gratis. Secondo punto, la mobilità. I cellulari. I cellulari e i tablet, ce ne siamo resi conto tutti negli ultimi due o tre anni, hanno creato un nuovo mercato, un nuovo pubblico. Perché noi quando siamo a aspettare il tram, quando siamo in metropolitana, quando siamo qui e magari non ci interessa l'intervento e ci annoiamo, apriamo il cellulare e guardiamo cosa è successo da qualche parte. Ora, se questi sono diventati dei device, degli strumenti per veicolare l'informazione, bisogna che i giornalisti si attrezzano per fare dell'informazione adatta a quegli strumenti. È assurdo che io sul cellulare debba vedermi il sito del Corriere così come è stato pensato per uno schermo di computer enorme. Io devo avere delle notizie veloci, rapide, di facile lettura sull'iPad, sul cellulare o su qualsiasi altro strumento. Quindi, cominciare a fare un giornalismo con il linguaggio degli strumenti su cui ormai la maggior parte delle persone si informa. Perché sono convinto che moltissime persone non comprono più il giornale, ma guardano sul cellulare le notizie o sull'iPad. Terzo punto, le social news, l'abbiamo detto. I giornalisti non sono più i padroni esclusivi delle notizie. Se, perché è così, la maggior parte delle persone sta sui social media, è lì che dobbiamo portare le notizie. Dobbiamo portarle in maniera, ancora una volta, e con un linguaggio che sia quello adatto a questi strumenti. Affretto perché sto prendendo troppo tempo. La credibilità è una cosa fondamentale. L'attendibilità del giornalista non è più un dono che deriva dalla testata come è stato fino a dieci anni fa o a vent'anni fa. Il giornalista oggi deve guadagnarsi questa credibilità in ogni istante, in ogni attimo, perché fuori c'è un pubblico che lo segue, che lo vede, e siccome nella rete c'è sempre qualcuno che su quel fatto sa qualcosa più di te, è pronto a intervenire e a dire la sua. Quindi sei come sotto esame in ogni istante qualsiasi cosa tu scrivi o tu faccia. Quindi la reputazione, un diverso modo di affrontare le cose, perché un tempo tu scrivevi un pezzo, bello, brutto, ma non sapevi mai che cosa le persone pensavano, o comunque le persone non avevano una voce in capitolo. Oggi con i commenti un lettore può criticare il tuo pezzo, può dirti dove hai sbagliato, e quindi è molto importante riprendere con attenzione la reputazione. Ovviamente le metiche, il giornalismo è una questione di qualità, non solo di quantità, e quindi bisogna rintrodurre nei sistemi digitali di misurazione del valore del giornalismo l'elemento della qualità. Infine il giornale, può esistere un giornale di carta post internet? Beh, io credo che possa esistere, almeno ancora per qualche anno, qualche decennio, me lo auguro, se abbandonerà l'idea che il giornale debba dare le notizie che ormai tutti noi abbiamo letto con altri mezzi durante il giorno e comincerà a dare spiegazioni, le cause e le conseguenze dei fatti e non raccontare i fatti che già conosciamo. Quindi il giornale del futuro dovrà avere molta meno quantità e molta più qualità, dovranno essere più brevi, più selettivi, più pensati per apportare un elemento di originalità in un mondo dove ormai si conoscono quasi tutte le informazioni. Ecco, io penso che se in futuro c'è per l'informazione questo futuro debba ripartire dall'elemento centrale, il lettore. Il lettore è cambiato, non è più quello che era dieci anni fa e allora o i giornalisti trovano un modo per cambiare se stessi e il modo con cui fanno i giornalisti oppure rischiano di perdere con la carta anche il lettore che sarebbe un dramma ben peggiore. Grazie. Applausi